Devo dire la verità, negli ultimi anni il numero imponente di forze e l'ordine fanno vedere che quasi tutte le partite di cartello sono tra virgolette blindate. Non so se avete mai notato e osservato i costi economici di ogni partita, il numero di forze e l'ordine impiegate. Adesso è chiaro che complessivamente a livello mondiale per questi eventi c'è attenzione, ma questo è segno di grande professionalità, di grande scrupolo, di grande precisione delle nostre forze e l'ordine. Quindi non c'è nessun allarme, non c'è nessun elemento di tensione, noi saremo tutti quanti allo stadio, ci auguriamo che la risposta di Napoli sia quella per la vita, per la civiltà, per lo sport, con grande grido di amore e di gioia ovviamente quando si va allo stadio. Quindi le forze e l'ordine fanno il loro dovere, non ci sono segnali particolari, c'è prevenzione, come sempre si fa nei momenti difficili, in questo caso nel mondo, quando accadono anche in Italia fatti preoccupanti. Quindi non c'è nessun allarme.